Siracusa Festival del Cinema del Doppiaggio al via il settimo premio Tonino Accolla. Tutto è pronto per la settima edizione dell'unico premio nazionale dedicato al cinema e al doppiaggio intitolato a Tonino Accolla che si svolgerà a Siracusa in Piazza Minerva nel Centro Storico d'Ortigia nelle serate del 29 e 30 luglio a partire dalle 20 e 30. Tonino Accolla è il celebre doppiatore e direttore di doppiaggio nato a Siracusa scomparso nel 2013, voce italiana tra gli altri di Eddie Murphy e Homer Simpson. La manifestazione che ritorna dopo due anni di pausa riparte nella tradizionale formula che ha dato vita al primo contest live per allievi doppiatori proveniente dalle scuole dei doppiaggi italiani. ideato da Stefania Altavilla, direttrice artistica e presidente di ARC e da Giuseppe Mandalari, il premio nato con la collaborazione iniziale del supporto tecnico di Ambipictures e Fono Roma ha lo scopo di promuovere e valorizzare l'arte del doppiaggio. Due le serate al termine delle quali, dopo una preselezione avvenuta a distanza con la collaborazione di Fono Roma, sei allievi, tre uomini e tre donne parteciperanno alla finale del contest che si svolgerà in Piazza Minerva la sera di sabato 30 luglio. La valutazione delle performance sarà compito di una giuria tecnica preceduta da Franco Mirra e dal risponso della stessa verranno scelte la miglior voce femminile e maschile. A loro verrà assegnato il premio Tonina Colla 2022.